... Dobbiamo tutti insieme, uniti, rimarginare questa ferita alla cultura, alla scienza, all'arte, alla città ma poi Napoli appartiene non solo a Napoli, appartiene a tutto il mondo Pare un atto criminale, non è che abbiamo elementi certi, ovviamente aspetterà ad altri spiegare che cosa è accaduto però insomma mi sembra un atto criminale e quindi abbiamo il diritto di capire tutti noi che cosa è successo e chi vuole mettere sempre di più le mani sulla città perché noi non lo consentiremo devo dire tutti i napoletani per bene e mi auguro, anzi sono certo, con l'unione di tutte le forze istituzionali impedire un attacco frontale in questi momenti difficili la capacità del sindaco, la bravura del sindaco deve essere quella di allargare alle forze sane e democratiche che non è solo l'aggiunta, è il luogo dove si decide, sono tanti luoghi la città oggi ha bisogno di essere più unita, in questo io lavorerò molto ad allargare ma l'avevo già detto prima di questa tragedia a maggior ragione dopo il lunedì nero di Napoli lo farò ancora di più